Di ritorno dal Salone Internazionale Cibus di Parma, il Vice Presidente della Regione Mirko Carloni era ieri ad Ortezzano, al convegno organizzato da Coldiretti e ospitato all'interno della tradizionale festa del vino sul pacchetto giovanile del nuovo PSR Marche. Le Marche puntano per la prima volta a creare un unico e grande distretto del biologico che una volta realizzato costituirà il distretto più grande d'Italia e d'Europa. Quindi il marchio Qualità Marche per competere anche a livello internazionale è un biglietto per l'Expo Dubai con il 50% delle spese pagate agli agricoltori. Intanto diciamo che inizierà una fase di finanziamento col PSR molto importante, ci saranno i prossimi due anni da spendere, più una nuova programmazione, punteremo molto sulle filiere, sul fatto di organizzarsi anche con una distribuzione che arrivi nelle tavole, quindi arrivi sui mercati in modo da valorizzare i prodotti. Stiamo cercando di rilanciare e faremo una campagna apposita il marchio Qualità Marche, che è un marchio che alcune delle produttori di pesche stanno utilizzando anche per entrare nella grande distribuzione. E quindi il marchio QM potrebbe essere uno dei veicoli che ci chiedono di rifinanziare. Inoltre con i nuovi bandi PSR ci potrebbero essere, e vorremmo che sia così, un rilancio complessivo del nostro sistema agricolo attraverso i settori più trainanti, ma anche attraverso la commercializzazione all'estero. Infatti stiamo pensando ad una campagna molto importante di conoscenza dei nostri prodotti, che inizierà anche a Dubai, dove abbiamo scelto la settimana dell'agricoltura per promuovere le marche il prossimo anno. E quindi cominciando dall'Expo del prossimo anno, come abbiamo fatto a Cibus, come faremo a Sana, Bologna e come faremo a Danuga in Germania, queste fiere saranno anche un modo per far ripartire il prodotto marchigiano. Oltre al biologico, su cui stiamo facendo una campagna specifica, che vorremmo aiutare i produttori marchigiani a farsi riconoscere nei mercati come produttori di qualità. Crediamo che le marche, i nostri agricoltori marchigiani, hanno una marcia in più. Siamo convinti che fanno i prodotti in modo più etico, con maggiore qualità, stanno attenti anche alla salute, a quello che è il valore nutritivo dei prodotti che coltivano o che producono. E questo è un grande valore aggiunto. Questo sinonimo, marche come qualità, lo dobbiamo fare valorizzare in modo che sia anche un'opportunità a rimanere nell'agricoltura. E per questo abbiamo fatto in modo che il primo bando di circa 30 milioni di euro esca la prossima settimana, proprio per i giovani sotto i 40 anni che vogliono aprire attività agricola, fare investimenti e fare in modo che questo settore non perda il ricambio generazionale. Carloni ha aderito anche alla petizione lanciata da Coldiretti Giovani contro i pannelli solari Mangiasuolo. Piena convergenza con le associazioni degli agricoltori sulle scelte dell'amministrazione regionale. Il direttore di Coldiretti dice finalmente si può usare il verbo cambiare propriamente. Io ci metto la faccia. Abbiamo trovato e provato ad avere delle convergenze importanti perché ci siamo resi conto che in questi anni c'era stata un po' di difficoltà nello spendere i soldi della comunità europea. A tale proposito abbiamo cercato di intervenire prima che i bandi uscissero e intervenire sulle bozze per cercare di rendere più fruibili possibili questi bandi per i nostri giovani che altrimenti per alcuni cavilli o magari per alcune cose più o meno importanti non riuscivano a scaricare sul territorio quello che era poi effettivamente la sostanza del bando. La burocrazia rimane il nemico numero uno. Questo è un grande problema. Ho chiesto un impegno personale all'assessore perché non possiamo avere istruttorie che vadano oltre i quattro mesi. Abbiamo avuto istruttorie veramente troppo lunghe. Facciamo in tempo a far sì che gli investimenti non siano più neanche di moda o facciamo in tempo a far sì che i nostri giovani poi perdano quella verve che hanno al momento della domanda. Abbiamo bisogno di tempi rapidi, risposte rapidi, liquidità sicura in modo da poter fare quel passo in avanti che le marche meritano assolutamente. Benvenuto nelle marche alla direzione di Goldiretti nel periodo peggiore. Però ha detto grandi potenzialità per questa regione. Io da non marchigiano ho trovato una regione fatta di grandi imprenditori molto attenti ai conti, all'imprenditorialità, anche all'osare nel fare cose nuove e diverse. Soprattutto molto innamorati della propria terra che non è una cosa che si trova molto spesso. Il periodo paradossalmente per l'agricoltura è stato tutt'altro che drammatico perché gli agricoltori l'hanno fatta un po' da padrone, da attori principali. Il cibo non doveva mancare, quindi siamo stati un po' gli eroi del cibo. Ci ha dato anche una dignità a questo periodo molto importante. Credo che poi i nostri soci di Goldiretti si siano messi anche a disposizione di chi aveva più bisogno. Mi riferisco anche ai pacchi della solidarietà e a tante cose che abbiamo fatto, tante iniziative, quindi non solo a livello economico, che hanno cercato di portare ristoro a tante famiglie e a tante persone che ne avevano bisogno. 27esima edizione, ovviamente condizionata da questo tempo che speriamo sia giunto alla fine, ma si rimane sul punto che la tradizione non muore. Sì, è vero. Quest'anno, nonostante le difficoltà, stiamo cercando di organizzare, abbiamo organizzato una festa in modo molto ridotto, proprio per non perdere queste tradizioni che da tantissimi anni che ortezzano ci ha dato lustro nelle Marche, in Italia, in tutte le parti. Quindi l'anno scorso purtroppo per via della pandemia non è stata potuta effettuare. Quest'anno siamo ripartiti, anche se in forma ridotta, per cercare una ripartenza, come ripeto. Speriamo che vada tutto quanto bene, ci auguriamo il tempo che ci sia dalla parte nostra. E per i prossimi anni, i prossimi comitati che faranno una festa, speriamo un augurio a tutti quanti. Grazie. Ovviamente, in attesa delle grandi folle di gente che hanno sempre caratterizzato questo evento, ci sta anche il momento della riflessione e dell'approfondimento, come in questa occasione, perché la festa del vino è anche legata all'agricoltura e il futuro dell'agricoltura è legato ai giovani. Certo, infatti siamo contenti, ecco che l'impulso che abbiamo suggerito pure noi, la col diretti di poter presentare questo piano di sviluppo ai giovani, perché il futuro sono loro e dall'agricoltura poi c'è il piacere di gustare sulle tavole, assaggiare i vini, mangiare i prodotti, tutte queste cose qua. Una spinta che sia buona per i giovani e speriamo che tutto vada per il meglio. Grazie a tutti.